Primo giorno in pista 2017, come è andato, come sono le tue sensazioni? Primo giorno in pista, finalmente dopo questa pausa invernale, sono contento del mio primo giorno perché non vedevo l'ora innanzitutto di tornare in moto e di riprovare l'adrenalina di girare in pista e in generale sono contento perché abbiamo tolto un po' di ruggine che era fondamentale dovevo un attimo sciogliermi perché comunque dopo la pausa invernale si è molto più rigidi poi lavorano dei muscoli completamente diversi che durante l'inverno comunque non si riescono ad allenare si allenano solo andando in moto, perciò bene bene, ho iniziato a prendere il mio ritmo e step by step mi sono migliorato, abbiamo fatto un primo shakedown positivo Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!